Saluto più cordiale, amichevole a tutte voi, a tutti voi. Parlo dal centro Balducci a nome della rete d'Asi del Friuli Venezia Giulia, facendo eco e evidenziando alcuni punti del documento molto importante che l'Asgi, Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, ha scritto e ha diffuso con sottoscrizione di tanti e tanti soggetti impegnati su questa grande questione della migrazione e delle migrazioni. Prima di tutto un pensiero a tutte le vittime del dramma planetario che stiamo vivendo e di vicinanza a tutte le persone che hanno perso un familiare, a tutte le persone ammalate e a chi, medici, infermieri, altro personale, protezione civile, altri gruppi e persone si prodigano in modo ammirevole. Una situazione drammatica che evidenzia alcuni insegnamenti. Il primo, o fra i primi, è quello che la specie umana ha un unico destino di vita e di morte. E questo, prima di essere un postulato etico, è un dato oggettivo che richiama immediatamente i diritti umani, che sono uguali per tutti e non sono più tali. Ed è doveroso chiedersi, in questa situazione drammatica, Gli stranieri, dove sono? Chi si occupa di loro? E alcuni punti, fra i tanti altri, da leggere poi andando sul sito dell'Assi. E' indispensabile, analizzando le conseguenze dell'epidemia sulla società e evidenziando le iniziative da intraprendere per tutelare tutta la popolazione, che le istituzioni si occupano ugualmente dei migranti, dei loro rischi. Perché i rischi sono di tutti, e la salute è una salute di tutti. La condizione degli stranieri va considerata quindi seriamente, perché è da considerare dentro alla salute pubblica di tutti. Una prima considerazione riguarda le strutture collettive, in cui i migranti sono accolti. Strutture collettive caratterizzate da grandi concentrazioni, che non sono oggettivamente idonee a garantire il rispetto di quelle prescrizioni legali a cui tutti siamo ottenuti e che tutti continuamente ci raccomandiamo per salvaguardare la salute sia loro, sia dei lavoratori e lavoratrici dell'accoglienza. Pensiamo a grandi camerate, ad esempio, alla distribuzione collettiva dei pasti, cioè a quelle situazioni di assembramento che sono proprio quelle vietate giustamente, doverosamente dalla norma vigente a cui tutti, ripeto, siamo ottenuti. Quindi dovrebbero essere subito chiuse e organizzare un'accoglienza, secondo il sistema dell'accoglienza diffusa, come spesso anche noi abbiamo detto, ridetto in questi anni. Seconda grande questione è quella delle persone senza fissa dimora. Non risultano finora norme emanate per questo. Ma ci chiediamo come restare in casa se la casa non c'è, come lavarsi con frequenza le mani se non è concretamente possibile ed ugualmente come lavare gli indumenti indossati, come igienizzare gli ambienti. Cioè, di fatto, la popolazione senza dimora o che vive all'interno di insediamenti informali è da ritenere ad alto rischio per la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie. A loro rischio e a rischio di tutti. Anche perché c'è una carenza di informazioni adeguate e difficile per loro l'accesso ai servizi. Se il contagio si diffonde in tale area, speriamo mai, le conseguenze sarebbero conseguenze molto gravi. Quindi è urgente prendere iniziative di ricovero delle persone in luoghi idonei, effettuando il necessario monitoraggio sanitario. C'è una possibilità che viene da noi sostenuta, raccomandata da percorrere. Quella della proroga, dove è possibile anche dell'ampliamento delle misure dell'emergenza freddo, almeno fino al 30 aprile del 2020, con copertura di spesa a favore degli enti locali. E poi c'è la sospensione di questo itinerario che riguarda i CPR. Tanto è irragionevole procedere a espulsioni in un momento in cui l'ordine di allontanamento è impossibile da utemperare, da eseguire, stante la sostanziale chiusura di tutte le uscite dall'Italia. E' anche importante non inserire altre persone in questi CPR, perché già la situazione è grave. Noi sappiamo che ci sono delle norme, delle misure alternative che sono previste, perché immaginiamo cosa accadrebbe come del resto riguarda le carceri se accadesse qualcosa dentro a un CPR o comunque, come dicevamo prima, anche alle strutture, alle grandi strutture di accoglienza. E un'ultima considerazione riguarda le questure che sarebbe importante che le persone richiedenti asilo che si rivolgono alle questure per la prenotazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda di asilo, che questo documento, questa carta, fosse loro data, perché altrimenti girano nel territorio e non possono esibire nessuna documentazione e quindi andrebbero incontro a conseguenze molto gravi previste dalla legge. E concludendo, vorrei utilizzare dei termini che si sono ascoltati in modo controverso, contraddittorio, più volte, nell'ultimo periodo. Possiamo dire con cognizione dolorosa, dolorosa. Siamo tutti sulla stessa barca e se siamo tutti sulla stessa barca nessun porto deve essere chiuso per nessuna persona.